Quinto giorno di lavoro per il nuovo crotone di Leonardo Minichini in quel di Trepidò, sede del ritiro estivo, in vista della stagione calcistica 2010-2011, che vedrà i rosso-blu ai nostri di partenza del campionato di serie B-Win. Cinque giorni sicuramente molto impegnativi e profiqui, durante i quali il gruppo ha lavorato sodo, sia sotto il profilo strettamente atletico, insieme ai preparatori Andrea Bonatti e Rocco Massara, sia sotto quello squisitamente tecnico-tattico, insieme a mister Leonardo Minichini ed ai suoi collaboratori Gigi Garzia, Massimo Drago e Antonio Macri. E tutto è pronto quindi per il primo test amichevole stagionale contro l'Isola Caporizzuto, formazione che milita nel campionato di eccellenza, che fornirà sicuramente i primi dati, e le prime risposte che l'allenatore rosso-blu si aspetta. Immediatamente dopo l'amichevole, irrompete le righe per un meritato giorno di riposo e preparazione che riprenderà giovedì 22 luglio, in vista della seconda uscita stagionale del Crotone, in programma sabato 24 luglio.